Qual è la valutazione positiva su questo bilancio? Un bilancio che va verso la holding dei servizi, quella che noi da tempo chiediamo per uniformare il valore e i vari bilanci delle nostre partecipate perché veramente si vada verso un bilancio consolidato non solo del Comune di Pisa ma di tutte le partecipate in cui il Comune è presente ed è presente anche in massima parte. Purtroppo anche in questo caso si stanno pagando degli errori del passato. Mi riferisco ad esempio alla gestione di farmacie. Noi faremo attenzione perché certi errori non vengono ripetuti ma soprattutto cercheremo più possibile di porvi rimedio. Ho sentito negli interventi di alcuni colleghi dell'opposizione parlare di bilancio sano. Questo non può far altro che piacere e è la consapevolezza anche da parte dell'opposizione che effettivamente quello del Comune di Pisa è un bilancio sano. Un'ultima cosa è relativa agli eventuali innamoramenti di cui ho sentito parlare relativi ad eventuali ingressi nella maggioranza di nuove forze politiche che in base a questo bilancio decideranno su cosa fare. Noi confermiamo che nel 2013, quindi nella prossima legislatura, faremo parte dell'attuale maggioranza. Una maggioranza che si è dimostrata solida ed in grado di affrontare i problemi che ci sono stati fino ad oggi e che sicuramente ci saranno anche da domani. Noi diciamo a chiunque voglia eventualmente farvi parte rispetto a quelli che siamo oggi che il programma è questo, i cardini sono questi e non si pensi di porre rimedio o quantomeno di influenzare questi cardini e questi programmi perché a quel punto noi non ci stiamo. Grazie a tutti.